Ieri è stato l'atto finale per l'assegnazione dello scudetto under 16 femminile di volley che ha richiamato all'attenzione tanti appassionati dello sport nel tempio della pallavolo siciliana. Ben 28 squadre hanno dato vita alle fasi finali femminili di pallavolo a Catania. La scorsa settimana, per ben sette giorni, si sono affrontate a suon di gare davvero emozionanti, club provenienti da tutte le regioni d'Italia, un movimento quello giovanile in pieno fermento che rispecchia davvero molto una crescita manageriale da parte delle società che con cura formano con la cultura dello sport giovani atlete e ne fanno un punto di forza nel panorama italiano, scavando sempre profili ad alti contenuti tecnici. Il sorriso più bello però lo strappa a volerò Casal de Pazzi, un trionfo contro Limoco Volle e Conegliano, nella finalissima scudetto proprio nella giornata di ieri, portando così a 14 titoli nazionali nel palmaresse. Mai nessuno è riuscito a fare così tanto come settore giovanile. Un quartiere Casal de Pazzi a Roma, uno come tanti potremmo dire, ma invece non è così. Storie sport si fondono per far esplodere una magia che da anni imprime il proprio nome nelle massime competizioni nazionali. Una piccola capitale italiana del talento, del volley femminile, da lì molte giocatrici hanno iniziato la propria carriera. Una squadra con un DNA che non si può nascondere, tra le file della squadra il libero Carola Bonafede, figlia d'arte, il padre ex giocatore di volley, oggi allenatore in A2 a Messina. Arianna Bovolenta, figlia del grande giocatore azzurro Vigor Bovolenta, scomparso dieci anni fa. E Vanessa Hernández, figlia dell'ex opposto cubano Osvaldo Hernández. Piccoli dettagli che possono fare la differenza. Grande gioia al termine della gara per il tecnico del volerò Matteo Piglieci. Ci tenevo a farlo proprio per il nostro padrone Armando Monini, che ogni giorno ci dà la possibilità, l'opportunità di vivere questo sogno. Quindi è grazie a lui, è solo grazie a lui che ci possiamo mettere questa cosa. Poi noi lavoriamo in palestra, ci siamo, ok? Però lui ci dà veramente l'opportunità di vivere questo sogno. Il direttore sportivo Laura Bruschini che ci guida e ci sopporta. Ringrazio anche Luca Cristofani che è sempre una guida. Quando c'è bisogno di un consiglio lui c'è sempre. E poi lo staff con cui siamo stati tutti i giorni in palestra. Ringrazio Gabriele Antola che oggi non c'è. Ringrazio Adriano Dipeco, il secondo allenatore di queste finali, che è stato fantastico, Fabio Poli il preparatore, Stefano Bitonte il fisioterapista. Ogni anno c'è qualcosa che spinge questa squadra a raggiungere un grande risultato. Ma dove sta la chiave di tutto? È il lavoro in palestra. Solo il lavoro in palestra cambia. Noi facciamo tre ore e mezzo al giorno dove veramente ogni secondo non è mai buttato. È veramente solo quello che porta al risultato. Poi va in finale e una volta poi perde come l'anno scorso ci sta perché la palla è tonda. Ma stare sempre lì, dimostrare il lavoro, è giusto. Poi la partita vinci, perdi, vabbè può capitare. Chi pensava di mettere la ciliegina sulla torta era Limoco Volley e Conegliano. Le pantere del volley cedono solo in finale. È mancato quello che è stato un po' il leitmotiv della partita. Siamo riusciti poco a mettere in atto quello che ci eravamo chieste, per bravura sicuramente dell'avversario, bravura e preparazione dell'avversario. Abbiamo riscontrato in tutta la gara una grossa difficoltà a uscire su dei nostri colpi, riuscire a tenere i nostri ritmi. E in questo loro ci hanno sicuramente sopraffatto. È mancata un po' di solidità su quello, più di un po', che è il primo tocco in ricezione e anche il nostro livello di battuta. E in questo loro sono stati nettamente superiori a noi. Una festa dello sport per Catania, che come città organizzatrice traccia una linea con tutto quello che ha comportato nell'economia e nel movimento pallavolistico, che chiude una stagione nella città etnea davvero importante. Molte le autorità dello sport e anche la vicinanza da parte delle istituzioni presenti durante la cerimonia di premiazione, tra questi anche il neosindaco di Catania, Enrico Trantino, omaggiato da parte del Comitato Territoriale FIPAV di Catania con il presidente Maurizio Ragusa, accompagnato insieme al presidente del CUS Catania, Luigi Mazzone. Stendo i complimenti a tutte le formazioni, a tutte le atlete che hanno partecipato a questa grande manifestazione, protagoniste di valori tecnici di assoluto livello, nonostante la giovane età. Poi ovviamente prevale a queste categorie anche il senso del divertimento, del gioco e questa deve essere la cosa principale. E la soddisfazione è quella anche che la città di Catania, il Comitato Territoriale FIPAV di Catania, è riuscito nell'intento di organizzare, di andare per il meglio, una manifestazione che è fra le più importanti d'Italia. Un futuro radioso investirà la città di Catania per tutto il movimento pallavolistico. si chiude, una stagione che ben presto sarà protagonista nel femminile e soprattutto nel volley maschile. Per la città di Catania e per il movimento pallavolistico è un momento di grande fermento, diciamo di grande fermento sotto il vulcano perché, notizia di pochi giorni fa, il ritorno in Superlega di una squadra del nostro territorio nella Superlega, è da tantissimi anni, la Farmitalia Saturnia e anche in campo femminile c'è un fermento vivissimo, tante formazioni in campo nazionale, in serie B1, B2, che spero abbiano i presupposti per poter andare prossimamente ai più alti livelli.